Don Luigi Savoldelli, parroco del santuario di Maccio, ci troviamo nel giardino dietro il santuario. Per parlare di una vicenda che sta suscitando, bisogna dirlo, anche clamore, sia tra chi crede, tra i credenti, sia tra chi non crede, i più scettici. Ci può raccontare esattamente come stanno le cose? Si parla di un'apparizione della Madonna. Dunque, all'interno di questa esperienza spirituale che ha dato origine al santuario e che è un'esperienza che è durata 12 anni, quindi non si tratta di pochi giorni, e che è documentata da quegli scritti che sono stati valutati dalla Commissione Diocesana, istituita dal Vescovo e che sono ora al vaglio della Congregazione Romana per la Dottrina della Fede, all'interno di questi scritti si parla anche di questa realtà, cioè del fatto che la Madonna fosse presente in quei momenti di preghiera e accompagnasse la preghiera della persona coinvolta e un po' di tutti. Ecco, chi è che avrebbe visto la Madonna e quindi avrebbe vergato questi scritti che parlano di queste visioni in questi 12 anni? Sì, è questo laico della nostra parrocchia, sposato, insegnante di musica, che ha vissuto direi suo malgrado questa esperienza particolare di incontro con il Signore, che ripeto la Chiesa sta valutando. Allora è all'interno di questa esperienza che si collocano anche questi avvenimenti specifici che riguardano la Virgine Maria. Sì, parliamo quindi di Gioacchino Genovese, il maestro del coro. Ma è stata istituita una commissione diocesana per valutare questi scritti, per valutare la veridicità anche delle parole di Gioacchino Genovese. A che punto è l'iter? Dunque la commissione ha studiato per 16 mesi questa vicenda e ha concluso il suo iter e ha consegnato al vescovo e poi alla congregazione i suoi risultati. Io non sono a conoscenza diretta di quello che è perché io ovviamente non faccio parte della commissione, però certamente è stato fatto un lavoro molto scrupoloso, minuzioso, che ha comportato l'analisi degli scritti, delle persone coinvolte, delle testimonianze. Credo che la Chiesa vada sempre un po' ad agio, ma con prudenza e con apertura e con libertà di cuore. Quindi c'è stata anche una valutazione ovviamente del profilo psicologico e del laico? Ma questo, ripeto, io non faccio parte diretta della commissione, ma certamente vengono presi in considerazione tutti gli elementi, perché se si tratta di rivelazioni e di cose dall'alto è chiaro che non si può andare con superficialità, deve essere considerato tutto l'insieme. Però questa apparizione è un segno della presenza di Maria che è stato però percepito solo dal maestro del coro. Invece c'è un altro fenomeno, un altro segno, lei li chiama così queste manifestazioni, questi fenomeni, che è l'altare che trassuda acqua. Sta continuando questo segno a manifestarsi? Sì, non è che l'altare trassudi nel senso che ogni tanto senza ragione esca acqua, ma in alcuni momenti di preghiera vissuti nei mesi scorsi e anche in questi ultimi mesi c'è questo fatto abbastanza spiegabile. Cioè, sull'altare c'è evidente, visibile, tante persone lo hanno constatato, questa presenza di acqua, perché tale è secondo le analisi fatte anche dalla polizia scientifica. E questo è sempre legato appunto però alla preghiera, a questi momenti. E la cosa poi strana è che anche quando quest'acqua si asciuga, sull'altare sono rimasti dei segni che la gente vede che sono lì, ecco, sono sulla pietra, in qualche modo incisi nella pietra. Anche questo è un fenomeno, un segno al vaglio della Commissione Diocesana e quindi adesso della Santa Sede? Sì, sì, come dicevo prima, tutto quello che riguarda questa esperienza deve essere valutato, perché è un'esperienza molto ampia e molto ricca, no? E quindi chiaramente non si può trascurare nulla. Ma alla fine di questo iter si potrà forse parlare di miracoli? Eh, non lo so, bisogna chiederlo. Cioè, diciamo che la Chiesa, prima di parlare di miracoli, va molto lenta. Poi, come dire, bisogna capire un po' il senso di queste cose. Io personalmente dico il senso, mi pare che sia in una, insomma, che il Signore vuol far capire che c'è, che è vicino, che non abbandona il cammino della sua Chiesa e che dà dei segni, no? I segni possono essere interpretati in un modo o nell'altro. Io capisco che ci siano persone che dicono, beh, io non ho bisogno di questi segni oppure pensano che magari si sia organizzato un grande imbroglio, qualcosa del genere. Io, in tutta coscienza, devo dire, sono stato a mia volta testimone di queste cose. Nessuno andava a pensare quello che sarebbe successo. Se il Signore ci dà ancora dei segni è perché vuole dirci che ci vuole bene, che ci sta vicino. Il miracolo, non lo so, è qualcosa che avviene in un modo clamoroso, immediato, così. Qui è un accompagnamento, sono anni che c'è questa presenza spirituale che tra l'altro porta dei frutti nelle persone che arrivano, che trovano serenità, conforto, vita di fede. Lei ha parlato del maestro del coro Gioacchino Genovese usando il termine di messaggero. Lo deduciamo che quindi nelle sue visioni abbia ricevuto dei messaggi. Può parlarci di questi messaggi e da chi li avrebbe ricevuti? Dalla Madonna o proprio dal Signore? Sì, questo evidentemente lo lasciamo dire se sarà il caso alla Commissione, eccetera. Lui si definisce messaggero proprio perché, come dire, non è lui che si è messo in testa di rivelare delle cose. Il messaggero è uno che prende un foglio e lo porta agli altri. Qualcuno però usa anche il termine di leggente. Quindi vorrebbe dire che ci sono dei messaggi che riguardano il futuro? No, 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 non bisogna pensare che in questa vicenda ci siano, non so, dei segreti, delle cose così. Quello che c'è in questa vicenda è riassunto nella parola misericordia, no? Che è quella che ha dato anche il nome del santuario. Cioè che Dio ci vuole bene si piega su di noi. Ecco, questo si può dire perché questo è dentro nel Vangelo. Lei ha anche invitato i parrocchiani, i fedeli, che possono magari aver beneficiato in qualche modo di questo luogo del santuario, magari con guarigioni o comunque migliorando delle condizioni che pensavano essere critiche. Sì, 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 perché se ne parla, no? Qualcuno dice ma questa persona non stava bene, è venuta qui, ha pregato e sta meglio. Dico bene, chi avesse vissuto questo venga, lo dica portando delle testimonianze. Quindi a conoscenza di qualcuno che potrebbe aver, insomma... Cioè se ne parla, no? Per cui sai, tu dici ma questo qui ha detto così, così, bene, venite avanti perché solo se ne parla non ce ne facciamo nulla. Qui si tratta di fare le cose con molta calma, con molta prudenza, quindi di non dare l'idea che qui uno viene guarito. Però per il momento non c'è niente di ufficiale, nessuno ha formalizzato... Che io sappia, perché ripeto, uno può andare direttamente dal vescovo che a me personalmente nessuno ha detto direttamente c'è questo, c'è quell'altro. Poi è chiaro che anche se qualcuno arrivasse qui io non renderei pubblica la notizia dicendo Ah, questa persona è guarita, meno che uno arriva a zoppo e esce saltellando dalla chiesa e lo vedono tutti come faceva Gesù al suo tempo. Per concludere vorrei chiedere una cosa. Se non ha paura che ci sia una sorta di speculazione intorno a tutta questa vicenda. Abbiamo sentito addirittura di un pasticcere che ha messo in vendita un dolce intitolato il dolce del santuario. Sì, speriamo che ce lo porti così lo mangeremo anche noi. Cosa devo dire? Cioè in queste cose c'è chi dice bene e c'è chi dice male. Certo noi non lo facciamo per avere più offerte o più entrate per la chiesa sicuramente dopo. Io sono contento quando vedo la gente che viene, che prega, che si confessa, che partecipa con devozione, che esce serena, ecco. Che viene in chiesa per incontrare il Signore, non per avere chissà quale esperienza. Però è una cosa credo assodata che da quando diciamo si è venuta a sapere di tutta questa vicenda, di questa serie di segni, il santuario è diventata una vera e propria meta di pellegrinaggio. In realtà non ci sono stati in questi mesi, in quest'anno e mezzo, grandi pellegrinaggi, se non in rare occasioni. C'è un flusso continuo di persone, di famiglie, giovani e adulti che vengono ed è molto bello perché non c'è confusione. Chi viene qui può pregare, può stare tranquillo, può incontrare il Signore. Però in questi ultimi giorni forse c'è stato un incremento. Sì, è chiaro, ci sono alcuni momenti particolari, anche perché arriva la Pasqua, la Settimana Santa, quindi la gente approfitta per venire a confessarsi. C'è un po' di curiosità che voi giornalisti alimentate, no, naturalmente. L'ultima cosa, spieghiamolo, perché, visto che questa apparizione sarebbe avvenuta già anche diversi anni fa, perché ha deciso proprio adesso di comunicarlo? Lo spieghiamo? Sì, è come l'altra faccenda dell'acqua. Queste cose sono dentro in tutta questa vicenda e io mi appoggio alle feste liturgiche per cercare di dare dei segni. Quindi un anno fa abbiamo parlato del segno dell'acqua, era collegato alla domenica in cui c'era il Vangelo della Donna Samaritana, del Pozzo, eccetera. E ho detto, bene, anche qui c'è stato questo segno. L'altra sera era la solennità dell'annunciazione del Signore, quindi una festa mariana molto importante e a questo punto dico, beh, è bello poter pensare che qui la Madonna, in queste vicende che hanno dato origine al santuario, sia stata presente. Quindi non è una strategia di marketing che ogni tanto mette fuori un nuovo prodotto, è proprio un rendere partecipe la gente della grazia che c'è stata. Io non voglio seppellire la gente con avvenimenti troppo clamorosi, voglio aiutarli a vivere la fede se possibile. Avete recintato per così dire l'altare? Abbiamo messo un cordone perché l'altare è un luogo sacro e non vogliamo che la gente venga lì per curiosità, toccare, eccetera. In chiesa si viene per pregare, quindi quando noi facciamo salire le persone per venerare l'altare, per baciarlo, è un gesto di fede che facciamo sempre e solo se ci siamo noi sacerdoti, proprio perché la chiesa non è un luna park in cui si viene, si accende una candela, si tocca un quadro, si fa cose così. In chiesa si viene per pregare, per incontrare il Signore. E qui il Signore è stato incontrato. Spero, spero, sicuramente tante persone dicono di sì, io dico di sì, certo.